Sono nato in un giorno caldo di febbraio, nel 1923, durante la seconda guerra mondiale. Oggi, dopo la mia nascita, la mia famiglia è stata rilassata da un paese britannici e americani. Allora, chi sei? E chi sono? Sono Francesca Granfator. Allora, lui è mio nonno e mi accompagnerà per la prossima settimana in giro per la Svezia, perché abbiamo una missione molto importante, cioè? Cioè, dobbiamo andare a trovare la seconda mamma di Francesca. Nonno, sei al circolo polare artico, con la bandiera del Cagliari che non molla mai. Bravo, nonno, com'è? È soffice, molto bella. Però è tanta, guarda, questa è caduta stanotte, guarda, saranno 6-7 centimetri, 8 forse. Guarda un po'. E poi è morbida, è soffice. Se diventa ghiaccio, poi rischia di raschiare the wind is clean. Ci vivresti mai così? Ci vivrei poco, perché comunque, comunque Cagliari è Cagliari. Non possiamo, no, guarda, si può venire in vacanza, si può stare 10 giorni, 20 giorni, un mese, ma poi devi tornare a casa, perché da noi è il posto più bello del mondo. Non credi? Sì, sì. Beh, io continuo qui, perché altrimenti... Vai, continua. Nel frattempo Marian pulisce la strada. Vai, vai, vai! Ecco, questo è quello che si fa in Lapponia ogni mattina, dopo che nevica. Quindi lei pulisce, lui pulisce la macchina e adesso andiamo dalla vicina che sta lavando il tappeto. Ma è il matto, il tappeto? Il tappeto? Tu pulisci il tappeto con il sneu? Sì, sì. Tu puoi mettere sopa o qualcosa? No, no, no. Solo il sneu? Solo il sneu. Ok. E poi lo appende così, per asciugare. Ciao Mila! Sei mesi fa ho deciso di fare un viaggio con mio nonno di 80 anni e c'era un posto in particolare in cui volevo tornare da tanto tempo. Lei è Marian, mia madre svedese e per qualche giorno ci ha scorrazzati in giro nel circolo polare artico. Forse vi starete chiedendo che cosa ci faccia io, con mio nonno 80enne in Lapponia, in compagnia di una signora che definisco come una mamma. Ma che storia è questa? Se siete confusi è normale, lo sarei anch'io. Ma abbiate pazienza, perché tutto avrà più senso una volta che vi racconterò un tassello fondamentale della mia storia, un periodo buio e difficile della mia adolescenza. Ma prima, lasciate che vi mostri un posto unico e speciale. Sembrava impossibile per me visitare questo hotel interamente fatto di ghiaccio, ma finalmente ce l'ho fatta. La prima volta che sono venuta in Svezia dieci anni fa, non ricordo per quale motivo questo albergo era chiuso, quindi forse non era pronto, forse non c'era abbastanza freddo e quindi non ho potuto visitarlo. La settimana scorsa con il gruppo si è guastato un van e quindi anche in quel momento non ho potuto visitarlo e quindi eccomi qua adesso. Tra l'altro mio nonno è emozionatissimo come un bambino, non riesco neanche a trovarlo, l'ho già perso perché sta girando tutte le stanze. E Marian non veniva qua dal 2002, quindi più di vent'anni fa, quindi sono molto felice. Tra l'altro è davvero impressionante, cioè tutte le pareti sono fatte di ghiaccio, ci sono un sacco di opere d'arte e anche con le luci tutti questi effetti è bellissimo. Grazie a tutti. Nonostante il ghiaccio non sia il mio elemento, sono rimasta davvero senza parole di fronte a tanta bellezza, anche se il vero spettacolo erano Maria e mio nonno che dal primo istante sembravano amici di vecchia data. Allora nonno, siamo nella stanza giusta, topo e gatto. Sì. Come ti senti? Come mi senti? Io mi sento come il gatto. E tu come ti senti? Ma sei contento di essere qua, ma ti saresti mai immaginato che esiste un posto del genere nel mondo? No, non me lo sarei immaginato, però abbiamo tante cose belle che io già godo moltissimo, delle cose che ho in patria, nella mia città. Eh, quindi questo non ti piace? Sì, mi piace molto. Mi sorprende per la creatività, per la bellezza, per l'arte, per tutte queste cose, però... Che cosa è meglio? Non più nessuno, ma solo non si vedono i due l'occhio. E, madame, cosa pensi di questo liceo hotel? Sì, cosa pensi, mister Pino? Cosa pensi di questo liceo hotel? Sono abbastanza sorprendente. Ho studiato da quando ero bambina. Devi portare un'altra hatta. In tua hatta? Covera tua hatta. Covera tua hatta? Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, senti, è caldo. Sì, senti immediatamente. Sì, bene. Perché... Momma è qui ora. Sì, sei mia mia figlia, perché sei Francesca's madre. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è mia figlia. Sì, è mia figlia. Oh, io amo. Sì, è vero. Cosa sta succedendo qua? Lasciatemi spiegare. Allora, torniamo un po' indietro. Dieci anni fa, quando avevo 16 anni ed ero in quarta liceo, ho deciso di fare uno scambio culturale. Il promesso era quello di stare in Europa. E quindi io avevo scelto come paese la Svezia. Non avevo neanche considerato il fatto di poter studiare in Lapponia, perché, attenzione, io avevo scelto la Svezia, ma questa è un'altra storia. Qui ho conosciuto Marian e Pierula, che purtroppo non c'è più. Marian è stata la mia mamma svedese, quindi la famiglia che mi ha ospitato qua. E io sono andata a scuola qua. È stata un'esperienza molto, molto dura per me, perché, come potete immaginare, non è facile vivere in Lapponia, specialmente durante l'inverno, e specialmente a 16 anni, quando non sei proprio pronto ad un isolamento del genere. Ovviamente non avevo l'autonomia di potermi spostare con una mia automobile. Qui non c'è tantissimo da fare, perché le ore di luce sono poche e fa molto, molto freddo. Nulla che voi non sappiate o che non possiate immaginare. E quindi è stata un'esperienza veramente, veramente tosta per me, che purtroppo non ho portato a termine. Quindi avrei dovuto completare il mio anno scolastico, quindi tornare in Italia a giugno barra luglio. Invece ero tornata a dicembre. Ed è stata una bella battosta per me, perché io desideravo tantissimo venire qua. O perlomeno scappare dalla mia realtà, iniziare subito a confrontarmi col mondo. E quindi è stata dura. È stata dura per me, è stata dura per Marian, perché lei soffriva insieme a me. Io ho avuto diversi problemi a scuola, non sono riuscita ad integrarmi. Le persone che vivono qua non sono molto abituate a ricevere persone di altri paesi, o perlomeno non dieci anni fa forse. E quindi è stato uno shock abbastanza importante per tutti. Ho deciso di dare una seconda opportunità a questo posto, perché Marian è sempre stata splendida, come mi ha sempre dato un sacco di amore. E anche Perula, che era mio papà, mio papà svedese. Quindi loro sono stati una famiglia fantastica, però ovviamente tutte le altre condizioni e non erano tali per continuare a quel tempo. E quindi ho deciso di tornare. Ho deciso anche di portare mio nonno, che nel frattempo aveva conosciuto Marian tramite i social. Questa cosa è super strana. Quindi è un bel riscatto. Questo posto è davvero magnifico. Ma solo quando trovi la tua pace interiore a sedici anni non la puoi avere. Ed è giusto così. Quindi è bello essere tornati dopo dieci anni. È bellissimo e super emozionante rivedere Marian. E basta. Questa è la storia. Quella alle mie spalle è la casa dove ho vissuto dieci anni fa, cioè la casa di Marian e Perula. E quella lì, in fondo, è la mia cameretta. Wow! La cameretta in cui ho vissuto per quattro mesi. Io esattamente su questo letto non so neanche quanti pianti ho fatto. Ed è quello che un po' stavo pensando ieri quando appunto mi sono messa qua. Ero pronta a dormire e pensavo, cavolo, quante ne ho passate qui in questa camera. Questo era tipo la mia tana, il mio spazio sicuro. Quando chiudevo quella porta cercavo di, non lo so, di buttare fuori tutti i brutti pensieri che avevo, tutta la sofferenza che stavo provando. Vivere qua, così isolato da tutto, da tutti. Non avere degli amici a scuola, non poter fare quello che ero abituata a fare a Cagliari. Però in dieci anni quanta strada ho fatto, quanto è stato tutto inaspettato. Cioè dieci anni fa, mentre piangevo qua e pensavo di essere una povera ragazza che stava fallendo un'impresa, non mi sarei mai aspettata di vivere tutto quello che ho vissuto. Di viaggiare come sto facendo, di realizzarmi, di avere così tante soddisfazioni, che ovviamente sono passate per fallimenti, delusioni, cadute, ostacoli. Però sono qua, sono tornata, sono tornata con le mie gambe, sono indipendente. Non sono di certo più la sedicenne che piangeva disperata perché era sola al mondo. Wow, è bello essere qua, essere qua diversa, con un altro spirito, sicuramente cresciuta e molto più consapevole. E quindi è una figata. Ma è una figata. Ultimo giorno per me e nonno stiamo andando all'aeroporto di Luleo perché oggi andiamo via. Sono stato bene, sono stato benissimo. Ho visitato un paese che non conoscevo, molto misterioso, molto bianco, molto tranquillo, molto desertico. Poche persone. Però buone, poche ma buone. Poche ma buone, sì, sì, sì. In particolare la padrona di casa è stato... è uno spettacolo. Lo 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 spettacolo. Sì, grazie. Sì. È in mio senso. Grazie, Marian. È stato davvero incredibile essere con te, ancora. E sei benvenuto in Italia, quando che vuoi. Lo sai già. No, no, Fino ti va benvenuti. No, no, è per diventare famoso, l'hai capito? You are becoming famous soon. I am already famous. Rivedere Marian è stato come tornare indietro nel tempo. Nonostante gli anni e le distanze, l'affetto che nutriamo l'una per l'altra non è cambiato. E questo mi ha fatto riflettere sulla potenza dell'amore, anche nei periodi più oscuri e misteriosi della vita. Vedere mio nonno giocare e ridere come un bambino invece mi ha alleggerito il cuore e mostrato un modo per invecchiare, uno spettacolo sempre più raro e difficile a cui assistere. E poi ci sono io, che mi sono presa una bella rivincita per non essermi mai arresa, per non aver mai smesso di crederci, ma soprattutto per aver dato un'altra opportunità alla vita, per sorprendermi ancora una volta. Ok nonno, siamo arrivati alla fine, io sono super in fretta perché sto per perdere il volo. Sì, lei parte per Copenaghen, io attendo un paio d'ore per il volo per Bergamo. Ciao a tutti, ci vediamo presto. Grazie, un'esperienza bellissima, ti ringrazieranno anche loro. Unforgettable trip. Unforgettable trip. Just a while. Ma che scala dove è? Ecco qua. Ecco qua. Ce la fai? No, mi direi. No? Ok. Basta, è aperto. Posso passare? Aspetta un attimo. Ci siamo? Sì. Ecco, questa è la parte finale, la morale di questa canzone, che vede una persona, che vede in una persona quattro, quattro parti fallimentari della propria vita. Ma nonostante questo, alla fine dice Nella vita bisogna sempre inseguire un ideale e se a volte lui ti sfugge non devi arrenderti mai non devi arrenderti mai grazie a Anno per questa buona lezione.